Allo spaccio alimentare, via degli Etruschi 2, strada statale 106 a merito portosalvo, senza alcun dubbio, frutto e verdura a 79 centesimi. In questo periodo, formaggio valgrana 59 centesimi letto, fettine di petto di pollo 4,49 euro al chilo, prosciutto cotto fiorucci 89 centesimi letto, patatine pizzoli 1,99 euro, pasta sole di Sicilia 1,59 euro, birra trer, centiliti 33 per 3, 1 euro e 49. Ammorbidente Lenor 1,99 euro, latte parzialmente scremato, granarolo 1,69 centesimi, detersivo lavatrice felce azzurra 2,99 euro, frutta e verdura a 79 centesimi al chilo e tantissime altre offerte sulla carne di pollo e su vino. Spaccio alimentare, via degli Etruschi 2, strada statale 106, merito portosalvo.